Centinaia di bambini delle cinque classi delle scuole elementari di Portoferraio e di Camponell'Elba hanno gremito questa mattina il campo sportivo Antonio Lupi per la decima edizione di Gioco Sport, una manifestazione promossa dalla scuola con la collaborazione delle CONI e delle comune di Portoferraio. Il progetto prevede per le prime e le seconde classi attività di educazione motoria di base, mentre per le terze, le quarte e le quinte una vera e propria presa di contatto con i rudimenti di varie discipline sportive. Organizziamo l'evento finale a conclusione di una stagione invernale dove le società sportive si sono presentate nelle varie scuole elementari ed hanno offerto un supporto alle insegnanti per introdurre varie specialità sportive nelle scuole. Facciamo l'ultima, la chiusura della stagione e facciamo provare le varie stazioni, le discipline sportive che abbiamo creato, che abbiamo fatto durante l'anno. I bambini e le bambine in età fra gli 8 e i 10 anni hanno avuto così la possibilità di cimentarsi con la palla a volo, la palla a canestro, la danza, il tennis e l'atletica leggera. Al centro dell'attenzione degli istruttori ovviamente i bambini stessi che hanno così la possibilità di testare la propria compatibilità con le varie discipline sportive prima di decidere se praticarle a livello agonistico. A conclusione della giornata una festa e una cerimonia di premiazione che prevedeva la consegna di attestati a tutti i partecipanti.